Enrico Gasparotto a Stana, la tua stagione è ormai già strepitosa dopo la vittoria all'Amsterdam Gold Race e adesso a questo Giro d'Italia c'è solo la possibilità di aggiungerci una ciliegina sulla torta, vero? Ma sicuramente, però l'obiettivo primario per noi è stare vicino a Roma, a Reussiger, e dargli una mano a lui nel cercare di raggiungere l'obiettivo che ha lui per la sua stagione che vuoi cercare di arrivare al podio a Stato d'Italia Quindi non avrai la tentazione di tentare la carta destinata? Ma se viene a strada facendo, di sicuro tento anch'io un po' così, bene, sto bene, però ribadisco, alla fine io sono già contento di quello che ho fatto sull'Ardem Ascolta, Rocca di Cambio? Assisi? Vedremo come si metteranno le corse, di sicuro non sono io che vado alla ricerca della vittoria se poi la corsa morirà o farei modo che io potrò arrivare lì per giocare, ma me la giocherò Come ti sembra questa partenza del giro in Danimarca? Ma è come due anni fa in Olanda, di sicuro se tu fai questa domanda nei corridori per noi non cambia più di tanto, può andare bene o quale se invece la città, il personale, i meccanici, i passaggiatori che sono già in viaggio o che dovranno viaggiare dopo la tappa per loro, è una dura giornata, è una dura trasferta Ultima domanda, questa stana sta stupendo in questa primavera, qual è il vostro segreto? Di sicuro stupendo, alla fine siamo andati bene dall'Ardenne in poi, prima dell'Ardenne abbiamo tentennato un po', quindi abbiamo fatto il nostro dovere, siamo un po' di corridori più adatti alle classi dell'Ardenne e siamo riusciti nel massimo dei nostri intenti Grazie!